L'esecuzione della giustizia. Un romanzo bello, appassionante e commovente di Antonio Socci. È il romanzo più bello, appassionante e commovente che abbia letto da molti anni a questa parte. Una vera sorpresa. Cattura il lettore fin dalle prime pagine. Si tratta di un romanzo storico di agile lettura ambientato nella Londra dell'anno 1605, fra i vicoli, le taverne, i palazzi, le botteghe e i teatri sulle rive del Tamigi. Ci immerge così bene in quell'epoca e in quella Londra che si desidera non finire mai la lettura di quella storia anche d'amore, piena di intrighi, eroici martiri, trame, vili tradimenti, spie e lotte di potere. Vicende storiche le cui conseguenze del resto sono state colossali per l'Europa e per il mondo intero. Si può dire che non si capisce la storia moderna, sia europea che americana, e anche italiana, se non si conoscono quelle vicende inglesi. Il titolo, per la verità, può apparire respingente. L'esecuzione della giustizia. Dettoris editori. Sembrerebbe più adatto a un trattato di procedura penale, ma in realtà andando avanti nella lettura del romanzo si scopre la sua drammatica origine. L'autrice, Elisabetta Sala, docente di storia della letteratura inglese, rivela doti narrative assolutamente straordinarie. In questo nostro panorama letterario abbastanza mediocre c'è da augurarsi che il suo talento si cimenti presto con altri romanzi e che venga sempre più conosciuto dai lettori e riconosciuto dalla critica. Finora la Sala era nota come valentissima studiosa della tragica epoca di Enrico VIII e di Elisabetta, quella in cui viene consumato lo stupro del popolo inglese, ovvero lo strappo violento, decretato dalla corona, di tutto un popolo dalla Chiesa Cattolica, con la fondazione della confessione anglicana alle dirette dipendenze della corona. Sotto Elisabetta, in realtà, è lei stessa la divinità che esige adorazione e sottomissione assoluta della vita pubblica e privata degli individui, lei stessa che ha potere indiscutibile di vita e di morte su tutti. Instaura un regime del terrore che rappresenta probabilmente l'anticipazione secentesca del totalitarismo moderno. È l'esatto opposto della rappresentazione ufficiale e celebrativa della cosiddetta epoca elisabettiana. Per l'Inghilterra, le cui radici cattoliche sono antiche e molto profonde, è una catastrofe spirituale e umana, con la spogliazione di conventi e monasteri, divenuta anche una batosta economica. È lo sradicamento violento di un popolo dalla sua storia, perpetrato con un macello orrido di preti di cattolici inglesi, un massacro fatto di supplizi orribili che è oggi praticamente sconosciuto e che la sala ha ricostruito in due formidabili libri. L'ira del re è morte, Ares, ed Elisabetta la sanguinaria, Ares. Il romanzo della sala ha come protagonista un adolescente, Jack Digby, figlio di un nobile inglese di grande coraggio, che il 5 novembre 1605 si trova tra la folla ad assistere appunto in una piazza alla macellazione orribile del padre come traditore e cospiratore, sotto Giacomo I Stuart. Da lì si dipane una storia davvero avvincente, piena di colpi di scena, che porta il protagonista a conoscere quel drammaturgo che nei teatri londinesi del tempo ha una così vasta ammirazione popolare, William Shakespeare. È infatti l'epoca di Shakespeare e il giovane Digby, nella sua affannosa vicenda, si troverà proprio a scoprire il segreto del grande bardo, che poi è la chiave di interpretazione dei suoi capolavori. Il romanzo rivela infatti la motivazione storica dei tanti misteri che avvolgono la vita di Shakespeare e illumina quegli enigmi delle sue opere apparsi finora insolubili, dovuti presumibilmente al clima di terrore in cui doveva lavorare, che rendeva necessario al drammaturgo raccontare al popolo usando allusioni, esempi storici lontani, metafore e giochi di parole. Raccontava quella che in realtà era la tragedia degli avvenimenti in corso in Inghilterra. Elisabetta Sala, grande esperta di Shakespeare e di quel periodo storico, ha dedicato al mistero del bardo un altro ampio volume, l'Enigma Shakespeare, Ares, in cui si avvale anche dei più recenti studi inglesi che negli ultimi anni stanno scoprendo in modo sempre più documentato il cattolicesimo di Shakespeare, il quale ben conobbe il martirio dei cattolici avendo avuto parenti e amici martiri. Lui detta espressione artistica altissima a questo popolo che tentò di non farci strappare l'anima dal tiranno. È paradossale che colui il quale viene celebrato come il faro dell'epoca elisabettiana, il poeta nazionale e simbolo della cultura britannica nel mondo, sia stato in realtà non il cantore della dittatura, ma la voce formidabile della resistenza popolare cattolica al despota. Nell'Enigma di Shakespeare la sala ripercorre passo passo le vicende biografiche del drammaturgo, i suoi legami anche familiari con la dissidenza cattolica e colloca ogni sua opera nel preciso contesto storico in cui fu concepita, illuminando così una straordinaria ricchezza di significati e di allusioni che il popolo accoglieva e amava. Allusioni a volte fin troppo ardite ed esplicite che probabilmente costrinsero il drammaturgo, l'ultima parte della sua vita, al silenzio e al ritiro a Stratford-upon-Evon. La critica in genere non coglie la ricchezza di riferimenti storici dell'opera di Shakespeare e preferisce l'analisi letteraria astratta, ciò non di meno ne ha colto bene la potenza. Harold Bloom, nel suo Canone occidentale, scrive che Shakespeare e Dante sono il centro del canone perché superano tutti gli altri scrittori occidentali in termini di acume cognitivo, energia linguistica e capacità inventive. Infatti, scrive ancora Bloom, Shakespeare continuerà a spiegarci in parte perché ci ha inventati lui. Shakespeare superò tutti i suoi predecessori e inventò l'umano come lo conosciamo tuttora. Anche George Steiner fa un'osservazione analoga. Ne incontriamo la voce in ogni angolo della nostra sensibilità. Anche il nostro pianto, il nostro riso, sono nostri solo parzialmente. Li troviamo dove lui li ha lasciati e recano il suo stampo. Cerchiamo la misura di Shakespeare e ci manca il respiro. Shakespeare e Dante si dividono nella letteratura occidentale. Un terzo non c'è. Bloom arriva a dire il suo, di Shakespeare, effetto sulla cultura mondiale è incalcolabile. Dopo Gesù, Amleto è la figura più citata nella coscienza occidentale. Nessuno lo prega, ma nessuno riesce a evitarlo a lungo. Ma quell'Amleto rappresenta proprio il dramma di un popolo cattolico a cui è stato strappato Dio dall'anima.